In questo numero del Salus Tg, parafarmacisti in piazza contro le mancate liberalizzazioni, intesa a Stato-Regioni sullo stop all'incremento di 2 miliardi per il Fondo Sanitario Nazionale, coperta di tessuto amniotico, salva il sesso dopo un intervento contro il tumore della prostata. Parafarmacisti in piazza contro il DDL concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana. La protesta è mirata alla mancata liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C, grazie alla quale, dicono i parafarmacisti, si sarebbero potuti creare 5 mila nuovi posti di lavoro. Quello che è uscito attualmente dal Consiglio dei Ministri è di poco vergognoso, perché da un lato si dice ai farmacisti non poter dispensare i farmaci di fascia C in parafarmacia, che ripeto, liberalizzare non vuol dire elevare l'obbligatorio di ricetta, vuol dire mantenere l'obbligatorio di ricetta, ma permetterà anche un farmacista in paramilità di dispensare. Contemporaneamente si dice invece che un non farmacista può diventare proprietario di una farmacia anche se non è farmacista, cioè quindi i capitali, le grandi catene possono diventare proprietari di farmacia. Cioè passa il messaggio, se ti laurei, studi e lavori sulla tua professione non hai nessuna gratificazione, solo schiaffi. Se invece hai i soldi o sei figlio di, puoi invece fare la professione e puoi avere la farmacia. Raggiunta l'intesa in conferenza Stato-Regioni sui tagli previsti dalla legge di stabilità. Lo annuncia il presidente della conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino, che spiega in una nota. Accettiamo un sacrificio pesante come quello della rinuncia all'incremento di 2 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, ma solo ed esclusivamente per il 2015. Ha protetto il bebè nel pancione ed è già pronto per una nuova missione. Dalle donne arriva un aiuto per l'uomo. Una coperta di tessuto amniotico per proteggere i nervi erettivi e salvare il sesso dopo l'intervento per un tumore alla prostata. La strategia innovativa Made in Italy è stata utilizzata per la prima volta su 58 pazienti ed è finita in vetrina a Milano al 14esimo congresso dell'Associazione Italiana di Endourologia.